il satiro ottoiano la velocità non esiste non so se avete ascoltato l'intervista al grande totò di un giornalista dell'epoca la trovate sul tubo youtube e contento lei oggi principe io no perché perché ognuno ha la sua croce anche io avrò qualche croce croci indime croci che tengo nascoste che la gente non sa ma tutti l'abbiamo certamente ma qualche volta lei potrà anche non essere triste no no la velocità non esiste la velocità non esiste in nessun modo l'assoluto nel suo giudizio principe si sono assoluto nessuno è felicissimo ha mai trovato lei qualche momento di non ha mai trovato lei che momento di soddisfazione particolare effimero di pochi momenti di pochi minuti ma poi stiamo facendo un discorso piuttosto filosofico vero principe uno strano discorso soprattutto se consideriamo che al di fuori dei finestrini ci sono gli ammiratori che si assiepano che sono intenti a scrutarle sul viso appunto i segni della celebrità vedono l'attore superficialmente vero non sanno quello che sta dentro all'attore lei pensa frequentemente a queste cose principe sempre sempre e non si dà mai un momento diciamo così di superficialità quei momenti così di riposo intellettuale che un uomo ogni tanto si deve concedere no in questo no io penso sempre sono un pensatore penso la notte il giorno sempre e penso che in mondo non siamo niente nessuno non siamo niente nessuno nessuno nessuna niente allora non vale lottare principe no vale il lottare per gli altri per rimanere qualche cosa agli altri lei lascerà qualche cosa principe io no non lascio niente come non lascia niente nessuna torre che noi vendiamo delle chiacchiere principe permetta un'obiezione lei ha costruito tutta una particolare mimica una particolare interpretazione una particolare storia sua personale e a che cosa serve tutto questo un valegname più di me un valegname lascia una sedia che può vivere nei secoli io lascio le mie parole che dopo una generazione non se le ricordano più diranno chi è quello cosa abbiamo lasciato noi cosa lasciamo niente e a tal proposito leggetevi l'intervista anche della fallace oriana in cui totò disse forse vi sono momentini minuscolini di felicità e sono quelli durante i quali si dimentichino le cose brutte la felicità signorina mia è fatta di attimi di dimenticanza e si totò come tutti i grandi comici clown era profondamente triste perché tremendamente realista e dunque satiro perché sono le persone realiste vedendo la realtà nuda e cruda per quello che è possiedono il dono magico e saperla sdrammatizzare il ridere dico il ridere con brio il retro gusto amaro sano sfottò solo le persone illusi poverette pensano davvero che possa esistere una realtà migliore della nostra la nostra abominevole atroce allora sognano sempre che un giorno andranno su marte si emozionano per interstellar mamma mia e poi guardano 2001 dissenano lo spazio e si annoiano perché non è un vigno age è antropocentrica e caleidoscopica e senzienta la nostra condizione umana di animali qual purtroppo siamo che fin da principio si illudono di essere altro e si imborgesiscono aderendo a precetti e schemi mentali che anziché donarci libera felicità spesso ci reprimano ci reprimano e castigano in una dimensione angusta carceraria dove sediamo la nostra gaiezza per non scontentare il prossimo e dunque scontentare noi stessi quante volte sento dire guarda quel ragazzo è sempre stato uno studente dirigente con la testa apposta conoscitore di saggezza e piace alla ragazza è fresco simpatico brillante ma che ne sapete voi invece quel che è davvero quando nell'intimità della sua scarna nudità se mai soffre immensamente di non essere uno sciocco o un pazzo così almeno non capirebbe nulla e godrebbe destemporane idiozie se oggi sono andato a uno psichiatra è qualcosa che oramai faccio di gusto e a intervalli regolari così come sono le pisciate diurne anche notturne vado in cerca di consolazioni futili pagando fior di quattrini che persone diverse da me spenderebbero per un bombino o una lercia trombata con qualche battone vero no non mi è di nessuna utilità recarmici dico e recarmici ma non mi è nemmeno utile parlare della mia anima gente che semmai respinge a priori ogni mia acuta riflessione perché intenta a sollazzarsi in un beato io dico pelato no pelato queste pecore porcile gozzovigliante al motto del lavoro scopa e non arrecar noie ah che la noia è sindomatica di malinconie e qui vogliamo roccheggiare di musica forse pessima ma scaccia pensile prima di arrivare sul posto dalla macchina ho filmato una bizzarra coppia vicino porta saragozzi abita a bologna ma non è che la grande città del vero e le mosinavano soldi e compassione agli automobilisti fermi al semaforo inscenando dico inscenando uno spettacolino circense con loro acrobatiche terminati gli atti ginnastici dico ginnastici si avvicinavano ballavano si davano un bacio e quindi porgevano i rispettivi capelli capelli per ottenere gli oboli gli oboli caritatevoli della gente non miserabile della gente miserevole indulgente e pietosa ma loro sono contenti fanno il loro gruzzoletto ringassano a tardasera si cucinano il pane cicore e poi selvaggiamente amoreggiano in grazia di dio al che arrivo dalla psichiatra nonostante la mia maniacale puntualità ho dovuto aspettare per proverbiale ritardo e professionali prima di me c'era un signore che signore che a passo felpato e con sguardo già distrutto è entrato a colloquio lo psichiatra ha lasciato la porta e lo studio aperto io bellamente da me ne freghista puro origliato io non mi riprendo più era un bellissimo ragazzo biondo con gli occhi azzurri sì quindi lei omosessuale no che ha capito mi era tanto caro quasi quando lei è lei è parecchio caro so 300 euro a sedute bellissimo infatti doveva vedere che pezzi di gnocchi che gli ronzavano e poi ho cominciato a drogarsi non ha saputo controllarsi un giorno mi hanno chiamato ho visto il lenzuolo un lenzuolo come quello della sagra sindone che avvolgeva il suo corpo ed allora che tragedia capisco deve essere terribile perdere una persona cara capisce era piena di donne no scusi si spieghi meglio che c'entrano le donne sai a parte mia moglie non sono mai piaciuto molto alle donne ma lui era sangue del mio sangue sì la grande tragedia di quell'uomo non era la morte di quella persona che non ho capito se era suo figlio se fosse se era suo figlio suo nipote ma il fatto che quel ragazzo essendo morto non potesse più godersela ma quello che io definisco transfert sessuale lo fanno in molti la maggioranza dire il vero molti genitori proiettano i figli e loro aspirazioni che non sono altri che i loro desideri mai realizzati sì mai realizzati allora vogliono che il figlio diventi avvocato non perché vogliano vogliano davvero la felicità del figlio d'altronda mi avviso un avvocato può fare molti soldi ma campa sulle disgrazie altrui e quindi solo se possiede un cuore di pietra può essere soddisfatto e via dicendo quello che credo è che le brave persone lo prendono prima o poi nel culo perché troveranno sempre un figlio di puttana che li fotterà questo vale anche per le puttane ma molte puttane le più a dire il vero lo prendono anche in un altro posto comunque loro sono contente non fanno sconti a nessuno ieri pomeriggio invece una donna mi ha espresso il desiderio di conoscermi l'ho chiesto se la voglia di incontrarmi era adducibile dico adducibile alla semplice motivazione che volesse scoparmi lei mi ha risposto con grande onestà perché no e io solo questo vuole una botte via sì perché no perché no e poi l'ho scritto va a darvi il culo ah sì d'altra parte cosa resterà di me una volta morta sono la persona credo almeno in italia con più libri pubblicati tra self publishing saggi monografici eccetera eccetera saranno più di una cinquantina di titoli direi molto di più e mi piacciono recensi di film leggere degli ottimi libri ma si sa agli occhi della gente sei valutato solo se guadagni 20 mila euro al mese sei un lavoro normale adesso si è normalizzata altrimenti sono mezzo demente quante patente che ti danno quante patente a proposito dell'episodio la patente a proposito dell'episodio la patente condotto ho detto tutto cosa lascerò niente perché una modella su instagram è più di me le basta mostrare il suo deretano per essere seguita da milioni di persone i followers quelle sono quelle del twitter quando si dice che la vita è una questione di culo il teorema è la palissiano solo un ritardato non lo comprenderebbe ah se molta gente non ha mai studiato si presentava solo a lezioni alle lezioni erano anche leziosi per timbrare il cartellino poi passava il tempo a prendere appunto per i culi paraplegici i diversi i froci come dicono loro le persone con una spiccata sensibilità le persone particolari ma avevano ragione loro mi scopriranno da morto ma sarò già bello che sepolto che lo psichiatra mi dice sa credo che lei sia gravemente depresso sbaglio ma se per lei grave depressione significa vedere la vita per quella che si mi curi mi culi domani voglio essere uno stronzo qualsiasi e sbatterlo al primo che capita per fargli capire che sono uno che ce l'ha grosso e che sa sfondare che sono due per lei che sono due per lei che è sicuramente un'altra cosa che si muai Grazie.